Se i tuoi clienti conoscono meglio le tue scelte, la tua visione, i tuoi principi, la tua azienda si rinnova a costo zero senza fare niente di più di quello che già fai. Ci pensa Replay. Replay, il sistema web semplificato per le imprese. Replay è un sistema che serve a sviluppare la relazione con i tuoi clienti e a conoscere potenziali clienti interessanti. Devi solo mettere ordine a quello che fai ogni giorno e riunirlo in un unico contenitore.